Andiamo avanti con questa Makoto, ricordiamo Gaetano a 6 vittorie. Makoto da 38.000 punti, quindi le cose si fanno abbastanza serie. Gaetano whiffa diverse perry per fare barra. Makoto è un brutto matchup per Goken perché ha la capacità con il suo dash velocissimo di chiudere subito le distanze. Infatti frame trap in presa, bel salto verticale per leggere la command throw e quindi torniamo allo zoning a distanza. Gaetano deve fare molta attenzione perché Makoto ha l'ultra 2 che può facilmente unire le bolle. Ottimo option select con crouching MK per battere gli axe kick di Makoto. Qui Gaetano si becca la Nemo, focus livello 1 rilasciato dopo il cancel che prende in counter e decide di volare in cielo e regalare il round al suo avversario. È giusto perché bisogna tirare ogni tanto e tra l'altro Gaetano è dalle barre ma il dash di Makoto è così veloce e copre così tanta distanza che ha fatto andare a vuoto totalmente il suo tentativo di Tatsu Ex. Secondo round, la pressing della Makoto si fa sempre più ossessivo. Tick throw da jump a pugno piccolo ma sbaglia la combo. Gaetano entra con un salto fortunoso, decide di andare per il reset. Se avesse fatto Palmex avrebbe stannato e probabilmente avrebbe venuto il round però frustrato decide di alzarsi di ultra e perde anche il secondo round. E purtroppo questo tipo di matchup si basano su singole scelte, singoli errori che possono influenzare negativamente o positivamente l'esito del match. Stavolta non è stato fortunato il nostro match. Namakoto spinge ancora perché ricordiamo il punto debole di Gouken è proprio la difesa a corto raggio quindi tutti vogliono chiudere le distanze e oltrepassare l'oceano di bolle a cui sottopone solitamente gli avversari. Però come ho già detto appunto sta nella difesa a corto raggio e Gaetano qui riesce a battere un salto con una perry cancellata in super e a chiudere con un ottimo overhead quindi round impeccabile da parte sua. Zoning. Namakoto continua a pressare anche con dei salti un po' zarrati. Ottima combo, probabilmente in realtà voleva un CHP perché non avrebbe senso fare una combo con CMP. Pressing di flip. Focus un po' azzardato perché Namakoto cancella in Aiatex. Tick throw ancora e probabilmente stun infatti. Carica barre. Cerca il reset ma Gaetano lo legge, salta però non punisce bene. Presa teccata. Un po' più di Tatsu Exantier forse da parte sua gli avrebbero giovato. Anche perché non può tanto sparare. Infatti ecco il bait di Gaetano. Però non riesce a evitare l'inevitabile sconfitta. Comunque un ottimo lavoro da parte sua come avete visto. Si è portato a casa sei avversari. Il che in Giappone non è proprio semplice diciamo. E niente. Adesso penso che lascerò andare il video per farvi vedere il resto dell'esibizione. Dovrebbe essere un 10 contro 10. Probabilmente Gaetano avrebbe vinto, cioè avrebbe scagliato con uno CV tutto il team avversario se non fosse stato per questa Namakoto. Perché pare che ci fosse soltanto Kuroda dopo. Kuroda leggenda di Airstrike che però non gioca al 4. Era lì soltanto per motivi che lui sa. Quindi spero vi sia piaciuto il mio commento tecnico. Congratulazioni e un ringraziamento ancora a Gaetano. Perché ha mostrato comunque un ottimo livello. Sicuramente un livello sempre migliore rispetto a quello degli anni scorsi. Quindi abbiamo un giocatore che nonostante abbia una certa età di gioco alle spalle continua a salire di livello, continua a voler migliorare. E anche l'effettuare questo tipo di pellegrinaggi in Giappone per affrontare i giocatori migliori del mondo. Perché il Giappone è Giappone. E niente. Anche se ovviamente era lì per altri motivi decide sempre di dedicare un po' di tempo al suo hobby preferito che è Street Fighter. Quindi ho ritenuto di fare questo commento tecnico perché... Perché è bello. E volevo produrre un po' di commenti diciamo ad un livello un pochino più di nicchia più elevato rispetto alla massa su questi match esclusivi. Diciamo che ho costretto io Gaetano a non pubblicarli subito perché lui fremeva dalla voglia di mostrare i suoi progressi e il suo gioco contro i giapponesi però l'ho bloccato perché volevo che ci fosse il contorno giusto a questi match dato che magari non tutti i giocatori di medio livello possono apprezzare le sottigliette le sottigliette le sottigliezze di un... le sottigliezze e le finezze di un gioco del genere. Quindi continuerò a lasciare andare il video e ringraziamo ancora Gaetano ringrazio ancora Gaetano per avermi concesso questa esclusiva e ci vediamo al prossimo video che probabilmente tratterà di Mortal Kombat ma penso di proporre anche contenuti di Street se ci sarà l'interesse giusto. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Sì Grazie a tutti 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 Grazie a tutti